Ieri abbiamo presentato il quinto rapporto sulla finanza etica e sostenibile in Europa. Numeri, risultati di un movimento della finanza in Italia e in Europa. E' quello di cui si dibatte in questi due giorni e forse il nostro rapporto è un po' il filo rosso sotto traccia di queste giornate. Perché ho scelto la finanza etica? Prima di tutto perché il Bancomat è fighissimo. E poi perché è l'unica scelta in questo momento, è l'unica scelta per noi che siamo persone adulte e siamo convinti soprattutto che sia l'unica vera scelta per le giovani generazioni. Quindi bisogna scegliere la finanza etica.